Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono il vostro Dragonert22 e quest'oggi siamo qui su Sniperlit Nazi Zombie Armi Trilogy per proseguire la storia. La missione di oggi è foresta di cadaveri, un bel posto in cui non andare ed eccoci dove stiamo andando. Una città, no un palazzo, cosa dico pure io una città. E proseguiamo questo cammino dove c'è un corvo che si mangia uno zombie, che bei posti. Tonelettro resta qui per sempre, ma no, io non voglio rimandere qui. Cosa succede? Non mi toccano, io sono stato stupido allora sparare. Che schifo. Questi versi sono poco piacevoli. Cosa succede? In questi posti, che è un incubo? Ah, vedi, è una bella casetta. Eh, vabbè. Aiutami, chi? Chi è che devo aiutare? Che schifo. Ah, qui devo andare. Come andano ad entrare qui? Come si è posseduto? Aspetta, adesso provivi all'assedio. Ah, non farti contagiare, che decide lui. Va bene. Ah, i sigili occulti, ok. Ok. Oh, aspetta. Aspetta, mamma mia. Eh, cavolo. Quanti sono? Qua una bella carnata tirata giusta. Bene. Un po' li ho ammazzati. Toh. Cinque per uno ho fatto anche. Ok. Mi serve questo, però. Che sennò non riusciamo più qui. Troppa gente. Eh, vati. Che cavolo. Aspetta. Siete troppi. Io non ho la cosa di ammazzarvi tutti. Ma non potevo salire direttamente. Ho perso pure dove dovevo andare. Perché siete troppi. Il fatto è questo. Date troppo fastidio. Non ti rialzare. Ho finito le munizioni. Dai. Vai via, vai. Vai via. Aspetta. Niente. Oh, quanti schifo sono. Non è che è umano questo posto. Pure i cecchini. Cos'è quella testa? Niente. Io gli sparo. Non si fa nulla. Aspetta. Aspetta. Ho pure quelli che mi... Ma dai, me lo dici adesso. Me lo dici adesso che c'era questa. Però aspetta. Eccolo. Fatti. Non posso usarla. Sono leggermente accerchiato. Che liscio. Aia. Come devo fare? Passi in mezzo? Passi in mezzo. Aspetta. Aia. Dov'è andato? Aia. Stronzo. Vai giù. Mi manca uno. Aia. Guardate dove era. È sempre qua. Eh no. Ok. Cambiamo subito l'arma. In modo molto easy. Guarda quello senza testa che continua a rompere. Le scatole. Ah. Poche munizioni a disposizione. Aia. No eh. Ricarica per favore. Ok. Ahah. Per tutti ce n'è adesso. Non sono morti proprio tutti, sai. Non crepano. Non ci crepano. Non ci. Eh va. Vangulos. Ok. Ce l'ho fatta. Levati. Oh. Meno male. C'erano anche munizioni qua. Cos'è stato? Oddio. Dannazione. Cosa? Ancora? Ma che cavolo è? Ma che sta succedendo? Aspetta. E questo è quello che gli devi sparare quando... No. Oh oh. Ah. Ho capito adesso. Conviene togliere gli zombie. Ah ma li va spawnando di continuo. Ahia. Ricarica ricarica ricarica. Mamma mia. Aspetta che sono tutti qua... ...erbonizzati. Ma non ne spawna più. Allora aspetta. Non li continua a spawnare. Quindi è inutile di per sé. E' più indietro. Ok. Aspetta. Almeno li ho uccisi. Aspetta. Caduto. Eh si è rialzato. Eh va. Ancora allora. Dai. No. Ho sbagliato. Corri via. Ok. Undici. Con un colpo solo. Più lui che l'ho buttato a terra. C'hai rotto veramente le scatole adesso. No. E' lui il problema. Mamma mia che sofferenza. Ok. Si può entrare? Dio mamma. Ok fammi entrare allora. Ah si è apertovato l'altro lato. Ti ammazzo. Lo sei combinato tu. Ma guarda. Casino hai fatto. Ah. Stiamo là. Ci devo... Non sono il benvenuto. Dammi il tempo di entrare almeno. Aspetta. Vai. Vai giù. E vai giù vai. Guarda. Neanche tempo di arrivare che già rompono. Aspetta. Non ti vedo. Sei lì. Che fastidio che sei. Dove è andato? Dove è andato? Ah qua. Sta saltando ancora. Vai giù. Aia. Ce n'è un altro. Solo che non lo vedo. Ah qui sta saltando. Uno. Aspetta. Vai giù che c'ho la... C'ho la colt per voi io. No. Non ti devi rialzare. Vai per terra. E appunto è non alzarti. Te l'ha detto l'obiettivo stesso. Permesso. Grazie. Che merda che sei. Vai per terra. In volo ti ho ammazzato con la pistola. Eccola lì. La sta... Oh mio Dio. Quanti cavolo siete. Ah un po' di pulizia. E niente. Non sono morti ancora. Perché siete cattivi. Sono morto. No 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 no. Ce l'ho fatta resistere. Se ce l'ho un cecchino mi ammazza però. Fortuna che li ho lavati tutti. Puoi andare giù? Grazie. Ah vedi. Si è aperta la stanza. Obiettivo completato. Stanza sicura raggiunta. Addentrati più in profondità nella foresta. Ok. No. Più da fastidio dai tu. Cosa... E' stato... Non so se ho fatto bene. Ma... Credo di sì. Ok. Perfetto. Visto? Con calma si fa tutto. Non so se è giusto quello che sto facendo. Io lo faccio. Non vorrei essere cattivo però. Qua ce ne sono altri. No. Mi sento un altro soffrire. Nessuno soffre più? No. Ok. Interagisci. Scusa. Scusa. Ah ho alzato io il ponte. Nuovo obiettivo. Trova la... La... Entrata della segheria. Ahia ci sono altri cecchini. Però io... Ho un po' di paura di questi onestamente. Ah non posso tornare indietro. Un cecchino fastidioso sei tu. Ecco che cosa. Avanti. Ah morrea. Giù di qui. No. Aspetta che... Allora se io tengo premuto... Il cursor... Cioè il cursor... Il lit marker se ne va a... A fangulo. Non posso fare più niente. Perché spreco soltanto colpi. Penso che si vada di qui. No. No. Di qua niente c'è quindi. No. No. Sì invece di qui che devo andare. Ah. No. Non lo capisco. Adesso ho capito. Serviva. Serviva tutto questo. Potevo spostare io la porta. No. Io se io non faccio il casino non sono normale. Sconfiggi l'elite. Con motosega. Come? Eccolo. Come si ammazza l'elite con motosega? Come lo ammazzo io l'elite con motosega? Aspetta un attimo. No. Tieni. 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 E' uscito la testa adesso. Cosa stai facendo? E' poco professionale. Oh. Oh. Buon dio. Quanti sono questi zombie? Ah ne vanno spawnando ancora? Ma certamente. Guarda. Aspetta. Devo farli prendere di là. Aia. Dunque. Ok. Un paio li ho levati. Permesso. 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 Questo è l'elite, no? Ok. Ah la testa che è. Ti sparo con questa? No. Perché un soldato nazista dovrebbe avere una motosega in mano? Era detto a tagliare il prato? Cavolo. Cavolo. Sto andando un po' troppo indietro forse. Aspetta, 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 aspetta. Proviamo una cosa. Tira qui. Fuggi. Ok. Passaci sopra possibilmente. E' morto, hai visto? Ah, adesso c'erano tutti voi giustamente. Che figurarsi che non sparivano nel nulla. Allucinazioni? Magari. Quanti siete? Quanti? Dopo un po' corrompete anche un po' le scatole, sai? Ok. Prendi munizioni. Ok. Ok. No. No. Ok. Checkpoint. Che si deve fare? Ah, un altro assedio. Mi sa che questo episodio verrà... Questa missione verrà spezzata in due parti, sai? Dopo questo assedio. Perché è abbastanza lungo, direi. Guarda tu quanti sono. Ma io non ho più niente. Ma io non ho più nulla, aspetta. Come ci siamo arrivati qui? Ah. Bene. Pure. Aspetta. Che liscio che ha fatto, meno male. Aia. Sono troppi questi cecchini. Ah. Ti ho fracassato. Sì, però non puoi mettermi... Ah. Una roba del genere. No, non me la puoi mettere mai. Non puoi mettermi una cosa del genere. Io non te lo accetto. A questo punto faccio subito così. Vengo qui. Prendo subito il cecchino. Che problema sono i cecchini. Poi per il resto potrebbe essere tutto fattibile. Ah. Aspetta. Non li vedo. No, non li vedo ancora. Eccoli. Sono spawnati adesso. In testa. Così me li devo subito. Via. Ti è partito il cranio, ah. Stronzetto. L'altro è qui. Eccolo là sopra. Ho fatto una cazzata di nuovo. Terra. Dove cazzo sta andando? Mi devi complicare per forza la vita, vero? Sì. Però il gioco non è contento. Sì, ma io volevo usare la torretta. Oh signore mio, va. Perfetto. Ti ringrazio. È inutile poterlo usare adesso. Però potrei utilizzare voi. Che giri fate? Sono morto. Sono morto. Zica. Diciamo che sono vivo per miracolo. Diciamo che si potrebbe anche dire questo. Ancora per poco però. Perché mi sono andato a chiudere in un angolino. Devo passare. Devo passare. Ma cacchio passo io di qua. Passaci in mezzo. Aspetta. Ok, 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 ok. Ce l'ho fatta. Di voi non mi fido. Che so quello che fate. Poche munizioni. Ok. Oh madre. Perfetto. Posso già toglierla. Veloce, veloce. No. Oh santo Dio. Quanti schifo sono. Ah, fitto le munizioni. Perfetto. Ok. E quindi adesso sono cavoli amarissimi. Oh cavolo quanti. Cavolo. 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 Cavolo, 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 cavolo. Dovrei vado a recuperare delle munizioni. Per curiosità. Così. Cioè, immagino che qualcuno le abbia. No. Bene. Alla vecchia maniera quindi. Ma io non volevo fare così. Ci metto più tempo. Del previsto. In più mi resuscitano davanti la faccia. E che palle. Ho fatto partire un braccio. Aspetta, aspetta. Faccio un giro veloce. Ah, qui. Ma è il cecchino questo, no? Qua. Ma è la colt. Sempre meglio di niente. Cioè, la si fa con la colt. Li ammazzo tutti, li ammazzo. Sono lì, guarda dove sono. Aspetta. Bommete. Non so, ce ne sono altri lì sotto, no? Li vanno spawnando ancora. Ma è veramente impossibile sta cosa. Ci provo a tornare sulla torretta, allora. Che dolore, che dolore, che sofferenza. Adesso li devo decimare tutti. Immancabilmente. Mori. Così mi sento molto più fattibile. La situazione. Più nelle mie corde. Mori. Mori. Quanti colpi sto sparando? Se non mi sbrigo non posso uccidere quali là dietro. Che poi arriva, noi siamo punte a capo. Per tutti voi, una bella sorpresa. Madonna mia, che sofferenza immonda. Eh, sarà d'emergenza, sto piffero. Va bene, andiamo. Dove si deve andare? Qui sopra? Cos'altro c'è che non va? Cos'altro devo incontrare io adesso? Posso prendere di qua. Sì. Perché si muovono da soli? Un altro assedio. Ma ti stai rendendo conto, gioco? Mi prende in giro. Non mi dira l'ora che c'è la stanza sicura. Ai ai. Dovevo capirlo io stesso che sicuramente era una presa per i fondelli. Aia. Aia. Guarda, dov'è la sala d'emergenza? Ah, non è la foresta dei cadaveri, ma è la foresta degli assedi questa. Aia. Uccidetevi tutti, uccideteli tutti. Tutti vi ammazzo. Niente. Che posto dove affrontare degli zombie? Più sto... Queste polveri pure che ci sono. Hanno soltanto fastidio. Mi sono incastrato. Perfetto. No, no, dai. No, no. Aggiungi la sala d'emergenza. Guardate, faccio l'ultimo tentativo. Se per caso dovessi morire, proseguiamo la prossima volta. Sopravvivi all'assedio. Non posso sfruttare... Queste qua che si muovono, vero? Nemici che mi spawnano vicino. Non sto vedendo nessuno, per ora. Che razza di posto è mai questa? Eccoli. Boh, cominciano a cicciare fuori. Ah, guarda. Utile. Sti zoppetti del cacchio. Il problema è quando mi spawnano così da dietro. La prima cosa dovrei togliere questi soltanto io. Anch'io non finiscono. Ed è impossibile perché intanto c'è un altro che mi frusta. Oh, di nuovo male sono messo. Di nuovo male sono combinato. Che è sui zoppi? È ancora peggio. Non poteva essere tipo un mini assedio, no? Magari sgombra l'area. No. Devo per forza ucciderne milioni. Ok. Basta da dietro. Soffiando di noi i colpi. Sopra c'erano però. Eh, ma chi ci sale lì sopra? Guarda che roba. Se sfrutto questa. Pessima idea passare di qui. Ok. Aspetta. Aspetta. Gli scheletri. Ok. Gli scheletri si ammazzano così. In modo molto easy. Sì, ma basta venire da sopra voi pure. Io devo salire. Quindi se vi levate di mezzo... Capito. Aia. Maledetti voi. E i vostri creatori. Signor Adolfo. È tutta colpa sua. Ok. Combo persa, ma non mi interessa. Mi interessa ucciderli. Allora per essere morti tutti, no? No. Oh. Madonna mia. Dunque. Io direi di fermarci qui perché veramente questa missione è abbastanza lunga con tutti questi assedi e cose che ho dovuto fare. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un commento o vi piace. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Condividete il video con i vostri amici. E noi ci vediamo con il prossimo, anzi con la continuazione di questa missione. Ciao a tutti ragazzi.